Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un approfondimento per quanto riguarda Bitcoin, Ethereum, Cardano e XRP, quindi Ripple. Ma prima di iniziare ragazzi e farvi vedere quali sono i sentimenti e i segnali rialzisti che ci sono all'interno del mercato, volevo ricordarvi che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo immediatamente. Allora ragazzi, ho trovato questo articolo molto interessante su The Daily Hodel, un blog inglese che parla praticamente dei livelli principali e di alcuni dati fondamentali su Bitcoin, Ethereum, Cardano e Ripple. Li vediamo insieme. Innanzitutto per quanto riguarda Bitcoin c'è anche un articolo interessante uscito su Cointelegraph il 14 di agosto che ci suggerisce che i dati off-chain di Bitcoin hanno in servo qualcosa di molto importante, ovvero un ulteriore slancio rialzista per Bitcoin. Infatti, dice qui, mentre c'è una nuova market cap da 2.000 miliardi di dollari raggiunta dopo il picco di aprile del 2021, ci sono nuovi dati che danno la possibilità di capire perché Bitcoin è pronto a un ulteriore slancio rialzista. Kadhan Stadelman, innanzitutto ragazzi, il Chief Technology Officer del fornitore di soluzioni blockchain Comodo, ha spiegato a Cointelegraph, a prescindere dall'esito legislativo, ovviamente stiamo parlando della questione legata alla legislazione che sta intervenendo negli Stati Uniti per quanto riguarda il settore delle criptovalute, che ragazzi vi ricordo essere molto importante perché è la prima volta che il mondo blockchain e criptovalute è arrivato agli occhi dei legislatori statunitensi e questo può essere l'inizio di un percorso di regolamentazione che porterà il mercato delle criptovalute a livelli mai visti. Quindi Kadhan Stadelman ha detto, a prescindere dall'esito legislativo, questa discussione sta mettendo le criptovalute in primo piano nella politica statunitense e generando una maggiore consapevolezza pubblica sulla tecnologia blockchain. Un'altra conseguenza è che le istituzioni finanziarie tradizionali aumenteranno probabilmente l'accumulo di criptovalute se i chiarimenti normativi vengono adottati formalmente. Quindi molto molto importante questo passaggio. Andiamo a vedere alcuni dati off-chain. Stadelman infatti, ragazzi, ha evidenziato che l'accumulo di bitcoin è attualmente in corso tra whale e miner che, vi ricordo, sono i due principali fautori di possibili vendite nei mercati delle criptovalute perché le whale detengono tantissime criptovalute e sono coloro che detengono almeno 100 bitcoin nei loro portafogli. Mentre i miner sono quelli che vanno appunto a generare, tramite la loro potenza di calcolo, la risoluzione di blocchi e quindi vanno a generare nuovi bitcoin che immettono poi sui mercati. Quindi se queste due categorie accumulano è chiaro che c'è uno shock di offerta sulla rete bitcoin e quindi il prezzo necessariamente, se arrivano nuovi ordini, è portato a salire. Chiaramente, secondo questi dati, si crede che, sebbene bitcoin possa raggiungere il livello dei 50.000 dollari o anche un po' più in alto, sarà difficile al momento riconquistare il massimo storico a 65.000. Ma di questo, ragazzi, noi non ce ne preoccupiamo perché è chiaro che i dati poi si aggiornano. Nel momento in cui raggiungiamo i 50.000 ci saranno probabilmente nuovi sviluppi che potrebbero portare il prezzo a livelli più alti. Il sentiment di Odell è sempre più forte, quindi significa che il sentiment da parte di tutti gli investitori sulla rete bitcoin a detenere, quindi a holdare, a detenere a lungo termine la moneta, diventa sempre più forte, ovvero sempre più investitori vanno ad acquistare bitcoin per tenerlo a lungo termine. Molto, molto importante. Infatti, ci dice che l'offerta di bitcoin totale nelle mani di investitori a lungo termine è al massimo storico dell'82,68%. Questo, ragazzi, è incredibile. Al contrario, vi invito, ragazzi, a rimanere fino alla fine perché dopo vedremo anche su Cardano, Ethereum e Ripple le notizie. Al contrario, la quota di offerta dei trader a breve termine ha continuato in suo calo, scivolando al 20%. Questi sono dati molto importanti. Per chi li va a guardare quotidianamente, sa che sono dati molto importanti e che danno ulteriore slancio rialzista alla rete bitcoin. Ovviamente, come abbiamo già detto prima, le whale continuano a holdare e praticamente è stato detto da Yuri Mazor, Head Data Analyst di Chex EO Broker, che è una piattaforma di trading di criptovalute, con la previsione secondo cui il prezzo di bitcoin decollerà dai livelli attuali di circa 45.000 dollari ad oltre 70.000 dollari entro la fine dell'anno, molti investitori sono già ansiosi di far parte di questo storico rally. Quindi anche altri analisti e persone importanti all'interno del mondo cripto ci credono in questo rally. Inoltre, ragazzi, l'interesse istituzionale è ancora vivo e questo è molto importante perché gli istituzionali sono quelli che portano la maggiore quantità di denaro all'interno del mondo delle criptovalute. Quindi se il loro interesse è ancora vivo c'è una grande, grande tendenza alla salita del prezzo proprio perché continueranno ad arrivare nuove richieste per le criptovalute e quindi aumenterà lo shock di domanda e offerta. Infine, ragazzi, nessuna grande vendita in preda al panico nemmeno quando dopo il crollo di aprile 2021 c'è stato appunto un ritest dei livelli tra i 40.000 e i 30.000 dollari non ci sono state vendite dovute al panico da parte di grossi investitori e questo è un segnale molto importante del fatto che il mercato sta iniziando a maturare. Ma vediamo qualche altro dato Allora, ragazzi, qui su Daily Odel, come vi dicevo, l'analista Sentiment ci dice che Bitcoin e Ethereum stanno diventando più forti mentre Cardano e XRP stanno mostrando segnali di crescita fondamentale. Vediamo quali sono i livelli. Qui ci dice che l'offerta di Bitcoin sugli exchange è scesa sostanzialmente nelle precedenti due settimane. Qui vi faccio vedere, ragazzi, il grafico. Come potete vedere, in verde vediamo la linea del prezzo di Bitcoin che sta tendendo a salire in quest'ultimo periodo, nelle ultime tre settimane, mentre guardate la linea in viola che cosa sta facendo. Sta scendendo e questa è la linea dell'offerta di Bitcoin. Come potete vedere, se la linea scende, è chiaro che il prezzo deve salire proprio perché c'è uno shock dovuto all'offerta. Andiamo avanti e vediamo che altro ci dice. Qui possiamo vedere un altro grafico, sempre relativo a Bitcoin, e ci dice questo dato che attualmente gli indirizzi unici di Bitcoin che interagiscono con il network stanno arrivando a un punto tale per cui ci potrebbe essere un nuovo grande movimento del prezzo. Qui vi faccio vedere lo stesso grafico, un po' più in grande. Potete vedere sempre con la linea verde il prezzo di Bitcoin che sta crescendo in quest'ultimo periodo, e con la linea in arancione gli indirizzi, scusate con la linea viola, il colore, gli indirizzi attivi a 24 ore nella rete Bitcoin. E questo è molto importante perché ci dice che c'è un incoraggiamento alla salita del prezzo proprio per dei picchi che ci sono all'interno degli indirizzi attivi. Andiamo avanti ragazzi, molto importante per quanto riguarda Ethereum. Qui possiamo vedere in questo grafico che adesso vi faccio vedere ha ingrandito, gli indirizzi attivi che holdano più di 100.000 Ethereum, al momento stanno possedendo il 43,7% dell'offerta dopo che lo stesso livello possedeva solo il 35,8% tre anni fa. Questo qui è il grafico ragazzi, molto molto importante, proprio perché ci fa capire che se la percentuale di offerta è detenuta da portafogli molto molto consistenti e che quindi probabilmente non vendono durante i periodi di panico, questo sta a significare che i possibili drawdown del prezzo diventeranno sempre più bassi. Cioè che cosa significa? Se fino a 3-4 anni fa ci potevano essere dei drawdown di anche l'80-90% in momenti di food, ovvero di panic selling, in questo momento più cresce la percentuale detenuta dalle mani forti e più saranno bassi drawdown. E io oserei dire che possiamo arrivare anche ad avere dei dati che si sostanziano più o meno in maniera simile rispetto all'azionario, quindi con crolli massimi nell'ordine del 50-60%, che è già una grande conquista per il mercato delle criptovalute. Quindi anche su Ethereum notizie molto interessanti. Vediamo su Cardano. Qui possiamo vedere un grafico che ci dice lo sviluppo dell'attività su Cardano che è in salita e anche XRP, ovvero Ripple, si sta avvicinando a uno sviluppo, a un tasso di sviluppo più alto di Bitcoin. Qui possiamo vedere il grafico ingrandito, ragazzi. Potete vedere la linea rossa ci dice che Cardano si sta sviluppando a una frequenza, a dei livelli più alti e vicini a quelli dei top asset. Ovviamente parliamo sempre di criptovalute. Invece qui in giallo potete vedere che XRP a livello di sviluppo dell'attività sta per sorpassare Bitcoin. Quindi anche queste due criptovalute stanno muovendo i loro passi in modo molto molto veloce per andare a conquistare sempre più fette di mercato. Ultimo grafico, ragazzi, che volevo farvi vedere è proprio relativo a Ripple. Infatti il tasso di sviluppo dell'attività di Ripple è vicino all'all time high, cioè al momento più alto mai raggiunto, proprio mentre i prezzi sono vicini al livello di 1,20$. Potete vedere qui, infatti, il prezzo di XRP in viola, scusate, in verde, mentre in viola potete vedere l'attività che si sta sviluppando proprio all'interno della rete di Ripple. E anche in questo momento vediamo che siamo vicinissimi ai livelli di record storici. Quindi anche questo, ragazzi, è un grafico che ci fa capire che sul Ripple ci possono essere notevoli sbalzi positivi nel prossimo futuro. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi piacciono questi video, queste analisi che vi condivido in modo da farvi comprendere anche cosa vado a guardare io e cosa guardano gli analisti più importanti al mondo. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!